Ho i capelli come lupo a livello di... Sì, perfetti. Se vuoi c'è anche l'elastico. No, grazie. Guarda anche la versione... Non so se in Italia c'è qualcuno che ha i capelli come te in questo momento. C'è stato forse. È un vuoto di mercato, sto ambendo a caparezza. Benvenuti e benvenute. Oggi ci beviamo l'ultimo con Luca Ravenna. Ciao. Grazie per essere qui. Grazie a te per me. Siamo super felici. Tu sei in mezzo a un tour clamoroso, senza senso. Chiuderai con 12 date a Milano. Tipo, il record è pazzesco. Forse è un po' una prima volta per la stand-up in Italia. Come ti fa sentire questa cosa? Non ci penso. Rispondo come i calciatori. Non ci penso. Vedremo a fine stagione il campionato. È sempre la prossima sera la più importante. Quindi ho già la testa ad Alessandria quando riprenderò il tour. No, no, beh. Sono veramente super contento. Ci sarà un momento in cui penserò Ah, cavolo, quante persone sono venute a vedermi. A vedere lo spettacolo, non me. Certo. Però adesso non ci penso. Cioè, se inizia a pensarci, è facile che il cervello si frigga un pochino. È cambiato lo spettacolo. Io ho visto Red Sox a novembre, credo. Come funziona uno spettacolo come quello? Ogni sera aggiungi qualcosa, togli dei pezzi? Sì, tu l'hai visto fra le prime sere a Milano. Sì, no, è cambiato. Non sono tanto le cose che aggiungi quanto quelle che togli, che fanno la differenza. E sì, sì, no, cambia. Ogni volta aggiungi o togli qualcosa, perché sono delle date molto, in cui è molto chiaro cosa devi togliere. E cambia molto, tipo se vai al sud, se vai all'estremo nord, ti dà un'idea, dice che no, questa cosa non ha senso. E poi molto sta un po' a te la tua sensibilità. Cioè, se lo vuoi cambiare, lo cambi, se no no. Però sì, da quando l'hai visto tu all'adesso, non è una cosa che faccio volentieri, però mi sento di poter dire che è migliorato, almeno nel flow, nel ritmo. Quindi posso tornare a vederlo il 29 aprile? Che fa l'ultimissima, sì. Quella sarà, ci ho pensato l'altro giorno, sarà, penso, abbastanza commosso. Beh, insomma, quante ne hai fatte complessivamente? Ad oggi? 35. 35, credo ne manchino altre, una trentina, e poi stiamo iniziando a preparare la parte europea, sempre in italiano. Per le acque frizzanti. Esatto, per il tour delle acque frizzanti, che è la mia grande passione, cioè recensire acque frizzanti in giro per l'Europa, e quello farò, penso, in autunno. Quindi alla fine sarà un po' intorno alla settantina, credo, in tutto. Come è stato scrivere Red Sox? So che tu sei andato in America per un lungo periodo e hai fatto un po' di esperienza di latte, ho visto anche recitare in inglese, fare cose nuove. Eh beh, io avevo pensato di andare là e di scriverlo, tutto lo spettacolo, come fanno i musicisti quando dicono vado in Costa Azzurra a scrivere nuove. Ah, esatto. E non avevo preso in considerazione che A, non sono un musicista, e B, non avevo le idee chiare mentre lo stavo facendo, però salire sul palco in America mi ha molto servito perché ti dimentichi del fatto che magari in Italia qualcuno ti hai seguito e là no, e quindi ti ne ha rimesso un po' il cervello a posto. Che non ti regalano niente, non hai... In America no, in realtà sono venute persone a New York che hanno visto che salivano sul show, poi però se sentono profumo, puzza di insicurezza, ti fanno a pezzi. Ah sì, sono crudeli? Eh, molto, sì, cioè il livello è talmente alto a New York soprattutto che un po' lo senti, ma ti forgia, quindi fa bene. E cosa hai fatto? Tu hai tradotto letteralmente o hai scritto in un modo diverso per gli americani? Tutto quello che ho tradotto ha fatto schifo e tutto quello che ho provato a scrivere lì funzionava, cioè è proprio una regola scritta abbastanza semplice, cioè devi capire cosa fa ridere in un altro paese, infatti devi stare lì un po' per farlo, tipo Francesco De Carlo adesso è in America, è un comico italiano bravissimo, cioè lui ha fatto per anni Londra e adesso a New York ha un modo di fare, devi vivere un po' là per farlo bene. Noi come pubblico italiano tendiamo un po' anche a imitare gli americani, non so se ci hai fatto caso, ma come paese d'Italia tendiamo. Come paese d'Italia, ma anche proprio come pubblico di stand up sono quelle cose che gli italiani non fanno, che però hanno visto negli special e quindi copiano, cioè affinità e divergenze tra pubblico italiano e statunitense, ecco questo è l'argomento macro. Eh, parti dal presupposto che molte persone che salgono sul palco, ma è compreso tutti lo facciamo, all'inizio soprattutto tendiamo a ricreare quel modo di parlare che no, che vedi in America che sembra un coglione quando lo fai. Certo. A partire da quello tutti si mettono in quel mood, quindi, però sai cosa che noi siamo per malosi in modo diverso dagli americani, quindi la cosa dell'Eckler di rompere le palle al comico, in Italia non ci sono delle regole, si stanno scrivendo ora, quindi se uno dal pubblico ti dice qualcosa, io ho assistito a scene tipo, ha detto aspetto dopo, ti meno, cose che a me non era mai successo. Da parte del comico sul palco verso il pubblico o dal pubblico che ti dice ti meno? Sì, sì, entrambi, entrambe le cose. In America sicuramente succede, vabbè c'è anche gente che ha saltato i comici sul palco, però, boh, non so, non sono così esperto per sapere cosa scatti nella testa di una persona seduta nel pubblico per avere voglia di salire e dire qualcosa. È una cosa che io, non è che ti fa tanto piacere, però invece a volte scaturisci in modo naturale, qualcuno che ha una risata isterica, strana e fa ridere tutti, quello è bellissimo. Ti capita, cioè percentualmente, in quanti spettacoli ti capita che ci sia un Eckler? A me? In generale, quando lo vedi succedere? Quando la gente viene in un grande teatro è molto difficile che si metta da solo contro il comico e contro magari 1.500 persone che di base sono venute a vedere la persona sul palco. Il comico, non te che vuoi rompere i coglioni. Agli open mix succede, molto di più, però anche lì, cioè, dipende quanta gente c'è, dipende, in realtà anche quello ti forma, perché se hai modo veloce di rispondere, ti aiuta ad essere bravo, no, a improvvisare. Una cosa che mi appassiona nel tuo lavoro è che hai un rapporto con l'imprevisto, che per me è un'esperienza molto ansiogena. Tu fai anche improv e anche il fatto di avere davanti persone che possono reagire non come lo aspetti è un elemento, se vuoi, un po' spaventoso. Tu come la vivi questo aspetto? Secondo me non c'è confronto fra la facilità di fare improvvisazione e la difficoltà di scrivere qualcosa. Ah sì? Non c'è confronto, perché quando scrivi stai dicendo una cosa in cui un po' devi credere o comunque ti è venuto in mente, devi portarla alla fine. improvvisare è faccia, nel senso se hai un minimo di… se resisti al primo sudore, alla prima paura di non sapere cosa dire, è abbastanza facile, non è… c'è alla fine sempre le solite cose, sempre legate al sesso, al lavoro, queste cose così. Però è divertentissimo perché di solito le battute improvvisate sono la cosa più bella che succede durante una serata, però quando scrivi è perché stai provando a dire qualcosa e quello lì si vede se sei bravo o no. Ti capita di scrivere 90 minuti? Pensando prima voglio dire questa cosa, scrivi dei blocchettini e poi li metti insieme come le perle delle collane, cioè come funziona? Penso che scrivere così, scrivere l'intera… è più legato a un film, penso al film della Cortellesi, per esempio, che hai piaciuto così tanto al di là del fatto che sia bello o meno, perché gli autori, lei e gli autori, di cui in questo momento purtroppo non ricordo il nome, Furio Andreotti e lei Calenda non ricordo il nome, volevano dire una cosa e quindi nel mondo in cui oggi si ha sempre un po' paura a farlo, un film così rimane molto… si dice ok era chiaro quello che voleva fare, 90 minuti in un spettacolo non puoi… cioè come fai? Ti servono i pezzi, i blocchi e poi magari dici ah però aspetta io volevo dire qualcosa su questo tema e ti chiarisci un blocco che avevi scritto in un altro modo, poi ne chiarisci un altro e poi provi a creare una cosa completa, diciamo. Sì da un punto di vista tecnico è sempre curioso vedere, da differenza del teatro classico che c'ha il sipario che si chiude, il faro che si spegne, cioè voi in realtà il vostro se voi state zitti lo spettacolo si ferma, quindi è interessante il fatto che vada messo poi in continuità queste cose che avete immaginato, non è semplicissimo. Se voi state zitti, beh in realtà… Cioè è più come il radio, è più come il teatro quasi. Secondo me si ferma quando inizi a mentire, nel senso quando inizi a giocare un po' troppo sulla maniera, sul fatto che le persone già ti conoscono, stai mentendo nel senso che stai raccontando una cosa che non è aderente con te e allora lì un po' si ferma lo spettacolo, c'è chi ride in modo automatico, c'è chi si stacca. Il bello del provare a raccontare il proprio punto di vista sul palco è che quello tiene sempre vivo, cioè dove mi sta portando questo tipo sul palco, questa tipa sul palco nel dire delle porcate una dietro l'altra, ah ok, voleva portarmi qua. Invece se menti lì si ferma lo spettacolo. Io ti ho sentito dire in un'intervista una cosa che mi aveva colpito che è il fatto che tu non puoi fare un monologo sul razzismo, devi farlo sul tuo rapporto con il razzismo perché sia credibile, è questo il discorso? Ah sì, assolutamente, cioè nel senso fare un monologo sul tema del razzismo, chi sei tu per farlo? Fare un monologo sul fatto che dentro di te esista un'idea di superiorità legata a dove sei nato, dove è nato un altro, un'altra, è quello che ben venga, anzi ti devi liberare e la commedia dell'arte serve proprio a mostrare dei personaggi, a fare dei personaggi per svelare, però sì, tu devi tirare fuori quello che c'è dentro di te, dire voi, o la cosa peggiore è quando percepisci nell'area che il comico dice loro, come dire noi che siamo qui, cioè voi che avete pagato e me siamo fighissimi, loro sono la merda, quella è proprio la cosa per cui dicono che non mi interessa. Sì, sì, e è molto sottile la linea che passa. E dici, fra l'essere un comico e essere Charles Manson il confine è veramente… Beppe Grillo, questa è esattamente… Bello, ottimo borderline. Eh, però è quello, cioè non è un caso, poi in Italia noi siamo sempre stati abituati a sentire parlare il prete e il politico, quindi è sottile la linea dove ti stai muovendo. Per fortuna tu provi a far ridere, che è quella cosa che… tu dici, io volevo solo far ridere, non volevo fare altro, che ti pare un po' il culo. Faccio un passo indietro a una cosa che mi ha divertito di un tuo racconto, ovvero che da bambino ti chiamavano gasato, che mi fa molto ridere questa cosa, cosa vuol dire? È che è una cosa dolorosissima, in quinta elementare si è fatto uno di quei temi classici che si fanno, cioè si chiedeva ogni alunno di fare un tema su un compagno di classe e su di me l'hanno fatto in cinque e io ho pensato, vedi, hanno capito chi è. Sono io, the chosen one. E invece tutti hanno notato, tutti o quattro comunque, e una ragazzina in particolare che mi ha spezzato il cuore ha detto, no Luca l'ho noto perché è troppo gasato, cioè se la tira se la crede troppo, ed è stato un bagno di umiltà che per tre anni di scuole media mi ha preparato con quello, cioè mi ha spezzato proprio il cuore quella cosa. Però ti serve per il palco, se non lo sai un po' sul palco, cioè servono tutte e due, devi essere un po' sfigato e un po' credertela. Quindi te ogni sera dedichi il tuo spettacolo a quella ragazzina nelle medie? No, non c'è nessuna a cui dico è per te, pezzo di me, no no, non esiste, no no. Sembra un approccio sano alla vita in generale? Anzi al contrario, penso sempre, spero ci sia qualcuno per cui provo affetto, perché se la metti sulla cattiveria poi rischi di fare quella cosa a lui, un famone. Certo, domanda alla psicoanalista senza titolo, sei mai interrogato sul perché ti piace così tanto far ridere, certo? Eh, certo, sì, beh sì, no certo, ma ne ho parlato per anni in analisi, cioè la mia terapeuta si spaccava le palle con, quando tu provi a farti l'autoanalisi, a saperla lunga su te stesso, l'analista ti guarda come dire, ma perché sei qua? E sì sì, penso per tenere insieme le persone, cioè nessuno si lamenta del fatto di aver riso, no, è sempre un piacere, quindi dici ok, se state ridendo, se vi ho fatto ridere io allora c'è dell'affetto in generale, quindi, nell'aria. Certo, noi abbiamo, sono in partito dicendo che quello che fai tu è un po' un'eccezione perché in realtà la stand-up, da quanto esiste in Italia? Cioè, dimmi tu da storico della stand-up italiana? Allora, propriamente detta, sfruttando internet e la traduzione di alcuni grandi comici americani, diciamo, grazie a YouTube, più o meno l'avvento viene indicato contemporaneissimo con questo gruppo di punk, si esibiva a Roma, il nome era Satiriasi, lo ruotavano intorno a Giardina, a Filippo e a Montanini, Giorgio, che è stato il primo a fargli fare un salto nel pop mainstream, un nemico pubblico era un programma sulla Rai, e poi appunto De Carlo, Crosta New York, Savero Raimondo, che è Savero Raimondo, Pietro Sparacino, e loro sono proprio quelli che l'hanno chiamata in questo modo, prendono spunto dagli americani. Però Paolo Rossi, se uno volesse anche Dario Fo, perché no, è benigni, tutto benigni, è uno spettacolo di stand-up al pari di quelli di George Carlin, proprio pulito pulito. Noi avevamo una tradizione teatrale diversa, dove il monologo, non sapevi mai se c'era la musica o il teatro canzone di Gabber, se c'era la canzone inizio e la fine, o era un programma TV, o era Paolo Rossi. Cioè, si è chiamata così con internet, diciamo. Sì, è che loro avevano anche molto le maschere, la tradizione del cabaret, no? Allora, il teatro italiano è fatto, cioè, a goldoni, si fa della mano, noi siamo molto teatrali, per questo è molto utile sapere ogni tanto fare i personaggi sul palco, perché metti un po' in connessione vecchio e nuovo. Però adesso esplosa, nel senso che adesso tutti i locali, in molte città italiane, hanno l'open mic, che è una cosa per cui noi dieci anni fa, lottavamo, cioè, era bello, lottavamo, dicevamo, ma cazzo, mi metti un microfono, ma fai pagare due euro in più una birra. Ma tu ti senti come quelli che conoscevano la band prima che diventasse famose, quindi sono un po' gelosi, o sei contento di vedere che sia fiorita così questa... Beh, io sono la band. Tu sei la band, tu sei la band che... Sì, sei il bassista... Tu sei molto casato. Esatto, sei il bassista e il cantante, e il chitarrista solista, tutti insieme. No, no, sono contento ed è fighissimo vedere che ci sono così tanti locali che lo facciano. Bello. Ogni tanto, quando, tipo, se bevi due birri troppo, ti viene da scrivere a gente che lo fa da poco, beh, ritieniti fortunato che... Ai miei tempi. Che è ieri. Certo. Io, Tinti, Rapone e Michele Giro, abbiamo iniziato la stessa sera, dieci anni fa. Quindi, diciamo, abbiamo un'idea. Bello. C'è qualche testimonianza? Questo mi interessa per... Così, motivi archeologici del genere. Di quell'open mic. Anche di quel periodo, di quella... Fu un open mic fatto a Roma, organizzato da Edoardo Ferrari, o Savero Raimondo e De Carlo. Eravamo proprio noi, quelli che ti ho detto, più al Carmine del Grosso e altri. E adesso, il 19 febbraio, facciamo una serata con quella line-up, più o meno, rifacendo quei pezzi per celebrare i dieci anni di questa cosa. Però no, di allora, io ho mezzo video fatto col cellulare, abbastanza emozionante da rivedere. Peccato che una volta questi video con i cellulari pesassero 10 giga. Sì. Quindi 30 secondi di gag era praticamente inspostabile. Ha riletto il mio messaggio che scrissi alla pagina dicendo Ciao, mi chiamo Luca Ravenna, vorrei partecipare all'open mic del 19. per partecipare intendo salire sul palco, punto. Perché poteva essere chiaro. Non volevi ambiguità. Ho visto che un altro comico che indichi come tua influenza è tuo padre, che hai definito un estremista della risata. Per una buona battuta rovinerebbe un'amicizia o perfino il rapporto con i suoi figli. Sì, sì. Però devi avere c'è sempre quello più estremo che devi guardare poi lo umanizzi grazie a qualcun altro. Però sì, sennò lui è un genio comico di livello incredibile per me. Veramente cioè alcune cose che potrei raccontare sul palco non suonerebbero credibili alle orecchie del pubblico perché è veramente troppo troppo fuori di testa. Ma dico con ammirazione cieca perché in più faceva totalmente un altro lavoro. C'è un rapporto competitivo come i genitori che insegnano a giocare a calcio ai bimbi e poi diventano più bravi loro? Cioè che rapporto avete su questo mestiere che condividete? È che lui fa ovvio che è competitivo però non competitivo all'americana è proprio competitivo all'europea. Cioè lui penso che volentieri metterebbe del veleno nella mia bottiglietta d'acqua e salirebbe lui al mio posto. Dicendo purtroppo un Ravenna non è disponibile. Esatto sale lui sarebbe una bomba però grazie al fatto che lui ha fatto altro io ho la fortuna di aver potuto di poter salire e reggere lo sguardo del pubblico lui è una cosa che lo schiaccia. Ma un vero genio lo fa così dipinge ovunque non è che ha bisogno della tela tutte ste cazzate lui dipinge ovunque però si siena mega competitivo super ma è molto simpatico è veramente molto simpatico. Lui è Bansky esatto lui sì chiteri cioè Basquiat anzi poi si brucia per il troppo talento. Oltre a tuo papà tiri in mezzo anche tuo fratello in uno spettacolo o meglio nella versione che ho visto dello spettacolo voi lavorate insieme immagino sia una cosa molto bella lavorare mi sono molto fortunato abbiamo appena fatto un viaggio insieme ad Amsterdam siamo stati quattro giorni a non dirci niente a un certo punto ci siamo detti forse dobbiamo staccarci un pochino perché così o ci mettiamo insieme però forse non siamo pronti però è bellissimo lavorare insieme molto figo. A proposito del tuo focus group di persone che è attorno la regola esiste una regola per sapere se una cosa che hai scritto fa ridere hai un focus group delle persone a cui dici faccio vedere sta cosa? è impossibile che funzioni secondo me cioè l'unico le uniche persone con cui puoi farlo sono persone che stanno vengono a un open mic o a una serata magari segreta o una serata su 100 persone 60, 20 ma non non puoi dirlo a tre amici e poi sali mentre quello probabilmente è un metodo che funziona per scrivere appunto un film uno spettacolo teatrale altro ma non ti devi fidare un po' del tuo gusto e un po' capire capisci se se funziona o no quello che hai scritto però è solo il pubblico è un tipo di lavoro che si fa solo dal vivo quindi non puoi neanche picciare un'idea no no non puoi picciare devi farlo dritto è terribile dire allora ho quest'idea no devi farlo dritto al pubblico un altro mondo in esplosione che tu hai frequentato è quello dei podcast cioè tu insieme alla stand up hai cresciuto molto anche il film uno dei podcast e tu con Kashmir anche hai fatto parte di questo boom cioè Kashmir nasce proprio come palestra per fare degli esperimenti su alcuni argomenti io edo Ferrara e Odoardo Ferrara lo scrivevamo insieme io scrivo per lui quando faceva era nel cast di quelli che è il calcio io ero autore e la parte più divertente era sempre il brainstorming perché diciamo delle porcate molto diciamo peggiori rispetto a quelle che poi finivano ovviamente su Rai 2 e durante quando c'è stato il covid abbiamo detto senti ma e comunque era il 2020 il mondo dei podcast ancora era una cosa diversa rispetto ad oggi e non è nato tanto come palestra è nato proprio come facciamo qualcosa che non si può non si può stare sul palco e però no era c'era un lavoro abbastanza preciso quello che facevamo e poi molto libero mentre registravamo ecco quanto era scritto cioè quanto c'era di preparato c'era la scaletta noi ci sentivamo la domenica più o meno la registravo il mercoledì o il martedì il lunedì la scrivamo ce la scambiavamo e poi quando la facevamo leggevamo poi era mega giocavamo sui stereotipi tantissime un po' la perdevamo la scaletta però già il fatto di essersi preparati aiutava tantissimo invece il rapporto fra quella cosa lì e quello che è successo dopo nei teatri tu credi che arrivi anche da cashmere il pubblico che ti vede? cioè è stato conseguenziale? ma se ti ricordi com'era l'Italia a ottobre 2020 quando eravamo diciamo bloccati in casa di nuovo quindi c'era un secondo giro di tristezza e solitudine fortissima l'affetto l'affetto che il pubblico nel pubblico si è generato con alcuni lavori che abbiamo visto sui miei tipo cashmere o ovviamente la pezza di Lundini ma tanti altri lavori è stato fortissimo quindi quando poi abbiamo fatto il tour nel 2021 le persone gli faceva piacere venire a ridare indietro percepiti un po' di gratitudine tipo si proprio forte e poi dopo ovviamente il pubblico di cashmere cioè che abbiamo unito io e Edo fra noi due più c'è stato anche il mio passaggio a LOL che ha aiutato un sacco a nuove scoperte a nuovi podcast di altri e bla 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 si è percepita un po' questa cosa di una sorta di generazione molto legata a Roma di nuovi comici quindi si ha aiutato tutto ha aiutato tutto insieme e infatti le domande su Roma non te le ho fatte perché sono le classiche come sta però cazzo una scena molto romana quella che poi si importa beh io mi sento parte cioè io sono di scuola romana però sono però è effettivamente Roma come per la musica qualche anno prima non so perché cioè voi bombadischi voi diciamo diciamo e diciamo che Contessa i cani i pils sono un po' la stessa cosa cioè hanno aperto tu hai fatto un camion io ho visto recentemente io scrivevo con loro tu scrivevi con i The Pils si 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 ho visto recentemente per motivi x bagno occupato certo e tu sei in coda nel bagno occupato 20 chili fa si 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 alcuni direbbero che il tuo lavoro è fra i più ansiogeni che si possono fare cioè uscire davanti a sconosciuti sperando di fargli ridere bella scommessa bella scommessa ogni sera tu ne soffri? no non 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 del non del dire speriamo che ridano ovviamente non sarebbe il tuo mestiere no arrivi a un momento in cui dici farò funzioneranno le cose quanto è la cosa che ti mette ansia quello si quello ti stesse proprio però più che altro quando scrivi cioè io ho fatto un mese di preparazione prima di iniziare il tour dove giravo l'Italia e scrivevo di giorno e la sera provavo quello è stato bestia cioè quello proprio stavo male dalla paura di non arrivare ad avere uno spettacolo fatto quello si quello ti mette pure però quando sei da solo poi sul palco alla fine butti improvvisando se riesci se sei abbastanza capace di fare voci personaggi e crea empatia con chi è davanti ti salvi però ti salvi una sera due sere tre sere e poi arriva il giorno in cui hanno pagato molto di più per lo spettacolo vero quella distanza ti dà l'ansia ma non che non rideranno quanto e come rideranno quindi c'è una parte di mestiere che tutte le sere so che ci sarà e che me la caverò e che indicatori hai per capire vabbè al di là delle cose facili quanto hanno riso quanto hanno applaudito ma c'è qualcosa che tu come performer percepisci stasera è una serata che ha fatto una cosa figa sì ti dici dove sto andando di cosa sto parlando cioè dove sta andando quest'ora che ho fatto e quando non lo sai è proprio un indicatore del fatto che di questo sarà un macello sarà un disastro terribile quando ti fanno i complimenti mentre stai scrivendo ti dicono ma improvvisi è pazzesco e dici ma non mi interessa quella parte mentre sarà la parte scritta poi a un certo punto le cose si mischiano e si crea quell'effetto quando riesce per cui sembra che tu stai improvvisando in realtà è tutto scritto e quando arrivi a quella roba per il mio stile è la cosa giusta però ognuno è sua ognuno scrive e fa la cosa che mi colpisce è che tu dici per esempio che scrivi il pomeriggio e già la sera lo porti in scena come fai a fare la memoria su 90 minuti cioè tu hai parola parola o hai dei punti in cui ti appoggi alcuni pezzi sono proprio memorizzati parola per parola altri sono un po' più liberi quindi vedi un po' come sta andando recuperi le cose che hai detto prima una cosa che ha detto quel tipo in prima fila cambi modo di chiedere una domanda sposti delle parole però diciamo è abbastanza utile lasciarsi per me liberi di poterlo fare il dramma è quando registri perché lì all'improvviso si vede tutto quello che non hai settato mentre invece devi farlo a memoria perfetta diciamo che è talmente memorizzato che è quasi solo un esercizio che non è bello non è divertente però ti serve poi per andare su internet o dove deve andare lo spettacolo cazzo non ci avevo mai pensato perché in effetti la serata in cui noi vediamo lo stand up comedian su Netflix è un po' diversa per chi fa quel mestiere lì immagino super diversa perché vedi i tagli tu li vedi col tuo tu vedi quando qualcosa si è beh un po' sì cioè un pochino almeno ti convince che quello sia stato un taglio dovresti chiamare Ricky Gervaisi e gli ori senti io ti ho scoperto che al minuto però ecco diciamo in questo aspetto tipo l'ultimo suo quando abbiamo visto ne parlavamo con Daniele con Tinti Rapone avevamo un po' l'impressione sicuramente ci sbagliavamo che tipo Netflix gli abbia dato 50 milioni di dollari lui si è trovato al giornale della registrazione sembrava che alcune cose non le stesse provando questo è delirante anche solo per pensarlo però che non fossero perfette come quelle dello spettacolo primo e magari ci sbagliamo magari no noi fra noi ci siamo convinti che fosse possibile detto questo ma che ne sappiamo cioè quel livello lì è talmente alto talmente inarrivabile quindi sono ancora inarrivabili anche questi colossi mondiali tu senti che queste persone sono molto più perché non so se sono come i calciatori un calciatore italiano può essere bravo come un calciatore cioè voi siete così oppure c'è ancora un po' di no c'è la lingua fa troppa differenza per quanto tu possa fare un qualcosa in inglese di bello completo da straniero se tu nasci sei ospite è un po' sì quindi quella cosa lì lo rende inarrivabile a livello di mercato di mondo diventi un profeta diventi veramente la gente ride e tu non hai neanche finito la battuta però cioè sono i due al mondo così oggi erano in tre uno ha diciamo avuto un piccolo capitombolo nella sua vita che gli ha allungato la carriera probabilmente che era di C.K però diciamo questo questo ma mi viene in mente che c'è quel comico francese che ha fatto il speciale in inglese che ha tenuto botta però in effetti forse arrivi comunque un po' d'ospite in una cultura che non è la tua e poi comunque fai un po' ridere col confronto certo però lui è usato come Ponte il Canada c'è il Quebec che non l'ha fatto in francese là e poi l'ha tradotto in inglese e sì però è già marocchino in Francia c'è tutta una serie di di belli internazionali che noi non abbiamo in effetti no noi siamo italiani siamo troppo italiani che è un bene è un valore enorme però è ovvio che quel tipo di fama è essere inglese o Bocelli vero o Damiano o Imaneschi una cosa che fanno gli intervistatori quelli bravi di solito sono i titoli delle interviste quelle di pregio sono tipo io che dico le cose cioè Luca Ravenna il comico dei tabù che tocca gli argomenti scomodi tu parli di salute mentale di droghe di cose che in realtà il mondo reale frequenta e parla come dire sempre secondo te perché c'è un approccio ancora così però se vuoi ipocrita nel discorso pubblico su questi argomenti Patti Bravo la ragazza del Piper ha fatto un articolo cioè è uscito nella sua intervista in Pare su Corriere dove diceva ho provato tutte le droghe tranne la cocaina e dici ma perché sembra così perché non è vero io non ci credo beh perché ci sono dei tabù per cui come hai detto tu ne parliamo in certi luoghi e non ne parliamo in altri e quando iniziare a scrivere questo spettacolo ho pensato quali fossero questi tabù che hanno appunto la droga che inteso la cocaina le raccomandazioni e le bestemmie perché quello è illegale bestemmiare quello è anche uno dei pochi reati perché si vengono esclusi dai talent show tipo mi viene in mente sì no ma è proprio illegale bestemmiare a Dio è proprio un problema legale cioè gli santi e la madonna no si può fare va bene nei commenti trovate poi la parte di tecnica mi sono reso conto quando provavo quando provavo che dicevo ah sì li ho individuati eppure sono veri cioè nel senso non ne puoi parlare in un certo modo non come fai nessuno è così amico è pronto a porgerti davvero la spalla per parlare di queste cose anche se sei sul palco anche se trovi un modo divertente per devi avere un altro una cifra che io non ho oggi magari un giorno ci arriverò però mi sembra che questi fossero i veri tabù venderci noi comici come quelli che toccano questi temi è ovviamente una cosa anche di marketing non so come dire ti serve no pensare che sei libero di poter dire tutto quello che vuoi che tanto non puoi mai però è vero che sei più liberi a teatro sei libero nel momento in cui sei inquadrato e quella clip va su internet diventa un reel cazzato è un altro completamente un altro contesto libero ma con un contesto differente a Sanremo certo cioè io ho in mente gli artisti in promo a Sanremo che fanno una vita da normali ragazzi di ventenni poi vanno a Sanremo e l'improvviso sono Yannick Sinner hanno il lifestyle di Yannick Sinner cioè che sì sì tutti i santi tutti i precisi poi ti basta prendere per esempio a calci dei fiori come è successo e vedi che la percezione infatti in qualsiasi altro contesto non sarebbe stato un problema lì in quel luogo si mesca una follia totale senti da pochi giorni in realtà forse da un mese è uscito su Amazon Prime il tuo spettacolo 5-6-8 in cose simili in cose diverse a Red Sox e come senti che c'è stato un cambiamento un'evoluzione beh è il primo spettacolo che ho fatto davanti a teatri davanti a plate spero dentro nazionali sì cioè nazionali nel senso che giravo in Italia c'erano un bel po' di persone però è diverso a livello penso di maturità sul palco cioè ora mi diverto molto di più a recitare sul palco quello è più diciamo rivederlo mi sembra più più legato a quella roba che dicevo prima dell'imitare gli americani questo invece è molto più teatrale e quindi orgogliosamente italiano qualcosa che ovviamente l'ho chiamato in inglese apposta certo approvato al ministro Made in Italy questo spettacolo sano però è cioè c'è questa roba del pudore della recitazione sul palco che è un po' messo da parte il pudore e mi diverto molto di più è molto più divertente per me arriviamo al tema che ti tocca un po' tutte queste interviste immagino sarai pieni maroni ma del politicamente corretto c'è questo grande dibattito tu hai dei limiti che ti poni per andare sul palco c'è qualche linea guida che si si ti ho detto prima ci sono dei temi che tu sei convinto di poter toccare e poi ti rendi conto invece che non hai la cilindrata per farlo ancora perché non ti ha riconosciuta e soprattutto non sei al bar con un amico quindi è quella cosa che tipo Ricky Gervais e Dave Chappelle hanno che possono fare quello che gli pare tanto che a volte si dimenticano che cioè fanno ridere dopo un po' anziché questo cioè ti rendi conto e dici ah io posso parlare di quello che voglio poi ci provi e dici sai che forse non ho l'età l'esperienza la capacità di scrivere anche per farlo quindi non è che ti riponi li scopri i limiti se ti riponi prima è un suicidio perché perché ti stai già castrando da solo ed è un peccato a volte la comicità usa il trucco di mettere dei concetti scomodi in bocca dei personaggi no? per dire delle cose però in qualche modo è una tecnica che tu usi certo beh la drammaturgia così è nel senso che dall'alba dei tempi esistono personaggi negativi amati dal pubblico o odiatissimi dal pubblico l'attore che lo interpreta non è quel personaggio il nostro lavoro è invece tirar fuori questi personaggi che fanno parte di te e di tutti e speri che peschi cioè la gente ride di più quando tu dici una cosa cattiva vera che possono aver sentito o detto che tu hai detto se fai finta che sta roba non esista fai schifo come cosa cioè io mi chiedo se poi dov'è che fa ridere allora la cosa se ti neghi una serie di sul palco dal vivo al teatro in un club ovvio che se vai a Sanremo non è che puoi fare cioè sono contesti diversi la risata poi è uno strumento abbastanza rivelatorio a volte ridi di cose di cui non vorresti ridere no cioè non so se dimmi la tua ultima volta che ti è successa eh non lo so che fare una battuta che tu dentro di te pensi questa qua forse è un po' storta però mi ha fatto ridere quella cosa mi ha messo avanti una parte di me che comunque vada mi interessa non so come dire però ti ha fatto ridere vuol dire che ti ha liberato dal fatto di essere da solo a pensarla che è molto buono che è una cosa umana perché comunque siamo animali se condividiamo le cose è bello quindi se hai riso per una cosa orribile e hai trovato sai come quando avevi tipo 15 anni sei un po' insicuro le amicizie a un certo punto trovi un amico con cui l'ironia sta sulla stessa frequenza è una delle cose più belle più liberatorie più umane che esistano invece con lui o con lei condividiamo l'ironia e dici voglio parlare solo con quella persona perché ci capiamo con uno sguardo è la stessa identica cosa con la differenza che se tu stavi sul palco ci guadagni sopra quindi è molto buono però è liberatorio castrare questa roba dire no tu non puoi tu non puoi permetterti va bene castralo pure però in cambio cosa mi dai cioè quale altra emozione mi stai regalando sì che quello che dici mi fa pensare poi a un concetto molto essenziale ma anche sentirsi un po' meno soli sì cioè alla fine questa è la comicità c'è una cosa molto fina che mi disse il mio professore al centro sperimentale noi vediamo assistiamo ascoltiamo le storie comiche perché pensiamo non vorrei mai trovarmi nella posizione in cui è lui o lei che sta raccontando che sta vivendo mentre le storie drammatiche tu vedendo le difficoltà del protagonista dici chissà cosa avrei fatto io per sopravvivere quindi sono sempre giochi di empatia l'unica cosa che la fa saltare è dire no questo non puoi ho una domanda che mi ti mette in mente in questi giorni che è anche un po' difficile per uno che fa il tuo mestiere ma non è la sensazione che a volte invecchi molto rapidamente la comicità come se fosse un'ata di scadenza molto cioè rivediamo cose c'è la musica che sono tutti pazzi dei Beatles ma la comicità di 50 anni fa è ricevibile al di là dei contesti proprio politici ma anche proprio come ritmi come sensibilità cioè boh eh sì sì è vero cioè siete lo yogurt della cultura siamo sì sì il latte forse più che lo yogurt cioè ancora peggio ancora peggio sì perché eh ma per forza i tempi cambiano ma io dicevo prima cambiano i contesti sia nel bene che nel male nel senso che no esiste esiste la comicità che è infinita è sempre eterna che se è la parola giusta sempre eterna mi so se uno scivola su una banana farà sempre ridere perché tu non vuoi essere quel tipo e la comicità fisica di solito è quella che è più universale più chiara pensare a che sa Cabilame certo l'italiano più famoso del mondo fa una gag fisica roba da Benny Hill no? fa sempre la comicità parlata invecchia più in fretta che ha dei riferimenti che un po' ti devi trovare in quel momento storico è il motivo per cui i comici si bruciano molto in fretta perché guardami penseresti mai che ho 23 anni no? però è vero purtroppo è vero prima di salutarci so che a fine mese esce un tuo audiolibro audiolibro scusa con un in più un audiolibro puoi dirci qualcosa in più? puoi intriparci qualcosa in più? non è mio io l'ho letto solo ho avuto il piacere di leggere un bellissimo libro a proposito di comicità che non invecchia del 1995 di Walter Fontana che è di gran lunga il più importante autore comico in Italia penso gli ultimi 30 anni proprio tutti noi siamo tipo lo veneriamo io ho avuto il piacere di lavorare con lui a quelli che il calcio ha fatto questo libro che si chiama l'uomo marketing e la variante limone e mi hanno proposto di leggerlo avevo fatto l'audiolibro non l'avevo mai fatto bellissimo perché quel libro che ha scritto il 1995 sembra scritto domani parla di tutto quello che ha a che fare con la pubblicità oggi per caso Ferragni cosa vuol dire associarsi a un marchio cosa vuol dire vendere l'anima per il marketing queste cose fa straridere è super milanese come quell'epoca che noi abbiamo vissuto dove i miliardi di lire venivano spesi a Milano da bere è bellissimo il libro io l'ho letto è stato molto molto divertente noi in conclusione di questo format regaliamo sempre appunto un libro e in questo caso abbiamo pensato a un libro di Thea Acic che si chiama l'anima della festa conosco lei era per me quando abbiamo iniziato a fare podcast era una delle boss assolute e appunto era un po' perché è un libro che parla di Milano che ci ha fatto pensare a te grazie mille e niente grazie mille per la chiacchierata grazie mille grazie mille